Adesso dal continente africano ci trasferiamo molto in alto al circolo polare artico grazie al nostro Luca Bracali Allora, lo ricordiamo, fotografo, esploratore, ha viaggiato in 138 paesi del mondo per oggi ci porti in Islandia, alle Lofoten, in Norvegia Già brontolava perché mi diceva, Alice, ma come facciamo a fare due viaggi insieme? Possiamo tutto, ci proviamo, ok? Esatto, sono d'accordo Fra l'altro sei rientrato ieri, io sono veramente felice che tu sia subito arrivato da noi per questa diretta ti ringrazio di cuore Sono molto apposta, sarei rimasto un giorno o due in più Adesso mi fai sentire in colpa, mi fa sentire in colpa Per Licia e per il suo insieme è più che buona Sei troppo carino, ti amo Lo dico di fronte alle telecamere perché è la verità Allora Luca, iniziamo dall'Islanda, una terra che conosciamo, ricca di geyser, di cascate E tu secondo me oggi, io ti voglio usare per raccontarci degli angoli segreti che hai visitato Così tutti iniziamo a sognare di andare lì, ok? Ci proviamo? Come no? Allora tu hai visitato l'Islanda in lungo e in largo E abbiamo visto che si è andato in un posto pazzesco che si chiama la cascata degli dei Perché è così pazzesco? Il nome diciamo è tutto un programma È provocativo, già il nome Allora devi sapere che io in Islanda sono stato 8 o 9 volte se non sbaglio L'ho girato veramente in lungo e in largo compresi i fiori occidentali E la stiamo vedendo È una bellezza Ecco, questa cascata degli dei si chiama Godafoss Sai per quale ragione? Perché la leggenda narra che nell'anno 1000 l'oratore della legge, la Goma Asagur Di rientro appunto da Tim Velir che era la prima sede del Parlamento europeo Decise di convertirsi al cristianesimo Giunse sull'argine della cascata e da lì gettò nelle acque le statue degli dei norrenni E dall'Islanda definitivamente passò al cristianesimo Ecco perché il nome Godafoss, la cascata degli dei Ma che bella cosa, vedete lui fa questi viaggi anche portando degli amici Degli amici che con lui delle persone vogliono conoscere il mondo Vogliono imparare a fare le fotografie, a fare le riprese Quindi insomma riesce a conquistarli in questo modo Però andiamo avanti In Islanda c'è il più grande ghiacciaio d'Europa Che ha un nome che dici tu così io non faccio brutte figure Vatnajakul Ecco E lui, pensate, non soltanto è andato a vederlo Come avete sentito, l'ha visto tante volte Però non si è limitato a guardarlo e a filmarlo Ci è andato dentro, cioè sei entrato nel cuore di questo ghiacciaio Sì Dunque, questo ghiacciaio a me sta molto a cuore Perché come sai Alicia, io fra le tematiche che seguo Ma questo sei tu, no? Questo sono con il mio drone Sono con il mio drone, sono autoripresa e poi ho filmato Quella che vedi appunto come immagine è la laguna dello Yocul Sarlon Sì Questi ghiacci intensi e colorati Devi sapere che 80 anni fa non esisteva Cosa vuol dire? Vuol dire che questo grandissimo ghiacciaio Quindi il Vatnajakul più grande d'Europa Sta man mano arretrando Ogni anno perde circa 100 metri del suo fronte Si è creata questa laguna Che ogni anno si amplifica Quindi lo scioglimento dei ghiacci è in realtà appunto un dato di fatto È una cosa brutta in questo caso Anche se può sembrare bello Però è una denuncia che tu hai fatto È una denuncia che io voglio fare Che infatti sono felice che tu mi abbia ospitato di portarla anche in trasmissione Perché dietro questa straordinaria bellezza Si c'era però Perché viene chiamato dai diciamo tecniche fusioni dei ghiacci Noi tecnici la chiamiamo fusione dei ghiacci più che scioglimento dei ghiacci E all'interno di queste grotte del Scaftafell Oltretutto sono visitabili in 4-5 mesi dell'anno Da ottobre a marzo, marzo-aprile Quest'anno a dicembre invece del ghiaccio Che ricopriva le cavità appunto della grotta Hanno trovato acqua Fiumi di acqua Non sono potuti entrare E anche questa è una denuncia delle temperature Che nel nostro pianeta purtroppo stanno crescendo Stanno salendo Io voglio ricordare che Luca Tiene anche conferenze in giro per l'Italia Anche all'estero Dove non soltanto racconta il mondo Ma fa queste denunce che sono molto importanti Basate su dati di fatto E su informazioni scientifiche Andiamo avanti Io invidio una cosa Ne invidio tante di cose a Luga Perché appunto ha viaggiato tantissimo Però una in particolare Che lui è una sorta di cacciatore di aurore boreali Io sono stata nel nord Europa tantissime volte Mai che ne avessi beccata una Dico una Lui ne ha beccate tantissime Una l'hai presa adesso? Eh sì certo Se è un cacciatore vai con il retino e le prendi Guardate che spettacolo Guardate che spettacolo Un cacciatore di aurore boreali Allora Ti spiego Io sì in effetti la definizione è proprio questa Nel 99 quando mia figlia Sofia Che è qui in studio tra l'altro È con me È nata da pochi mesi Sono stato in Alaska E ho fotografato lì la mia prima aurora Da lì mi sono profondamente innamorato Ho iniziato proprio l'insterio diciamo Di cacciatore di aurore L'aurore è uno degli spettacoli più grandi Che la natura ci offre Devi sapere che naturalmente vengono prodotte dall'attività solare Un'attività solare che è sempre meno intensa Ed è ciclica Ogni 12 anni si ripete Il 2013 è stato il picco e man mano scende Però questa ciclicità sta ahimè sempre più diminuendo L'aurora si verifica in condizioni particolari Quindi di tempesta solare Ma anche di cielo sereno Altrimenti l'aurora c'è Ma le nubi non te la fanno Non te la consentono appunto Non consentono la visione della stessa aurora Invece sai una cosa Una piccola curiosità Le aurore io Che mi hanno veramente affascinato Chi è stato il primo a vederle A descrivere da un punto di vista scientifico Chi è stato? È stato un mio corregionale Un pisano Ecco te parli E diciamola Galileo Galilei E va bene Galileo Galilei Ma sai da dove li ha osservate? Da Pisa Da Roma Ah vabbè io faccio una Da Roma Da Roma Ma se non ci sono le aurore a Roma Kp9 Aurora di intensità pazzesca Kp9 Era visibile persino da Roma Una luce rossastra E il nostro Galileo Galilei Che sappiamo quel che ha fatto appunto Vabbè come un genio Le ha battezzate aurore boreali Ma dando un nome sbagliato Lui credeva fosse un'aurora Invece non era un'aurora Era la luce del grande nord Ma non un'aurora E' rimasto questo misspelling Capito? Aurora boreale Infatti la chiamano Northern Light Appunto Che bello Che bello Andiamo avanti Un arcipelago Affascinante Che hai avuto modo di visitare E' stato anche quello Delle isole Lofoten Quindi isole meravigliose E lì hai avvistato le orche Sì Diciamo io Quindicesima volta Le Lofoten Sono tornato appunto Ieri Ho lasciato Questa mia seconda casa Mi sono spostato Un pochino più a nord Per vedere le orche Che è l'isola Vesterolen E talvolta Tromso Le orche sono degli animali Straordinari Che appunto Innanzitutto Il nome orca assassina E' errato Vabbè dai Non viene appunto in molti La chiamano orca assassina Ma invece in realtà E' un animale meraviglioso Che si civa solitamente Di aringhe C'è una grande migrazione di aringhe In questo golfo Quindi le orche Seguono questa migrazione E sono sempre più popolose Infatti Le escursioni per le orche Hanno un successo Molto più che delle orche Pensa all'ultimo mio reportage Un mesetto e mezzo fa Quando sono andato A proprio a cacciare Fra virgolette Orche Ne abbiamo viste In meno di due ore Circa cento Mamma mia Uno spettacolo della nazionale Secondo me Oltre che simpatico Esploratore Fotografo C'è anche molta fortuna Il famoso fattore C Esatto Il fattore C è tuo Poi Hai fatto diversi incontri speciali In Norvegia E noi ne abbiamo scelto uno Perché nella puntata di oggi Parleremo anche del problema Dei lupi Nel nostro paese In Italia Tu sei stato Al Polar Park Dove hai avvicinato I lupi Sì Lì c'è proprio un centro Dove il lupo viene tutelato E protetto Anche se sembra quasi Una presa in giro Perché adesso In questi ultimi giorni In Norvegia Si sta dicendo Che si vuole riaprire La caccia al lupo È vero È vero Sì purtroppo Sì Quindi abbiamo intanto Delle immagini Di questi lupi pericolosissimi Infatti Che hanno tentato di ucciderti Come vedete Un sacco di volte Vedi Vedi Ti uccidevano di baci I miei allievi fotografi Vedi Ecco praticamente Infatti mi verrebbe da dire No Ma è vero che il lupo È straordinariamente intelligente L'intelligenza del lupo Me la gioco con qualsiasi altro animale Forse il delfino comincia Ecco A fare una bella Una bella partita Il lupo Se diciamo Avviato ad un processo Di socializzazione Come fanno intelligentemente Al Polar Park Può essere amico dell'uomo Chiaramente Ma perché demonizzarlo così E perché iniziare questa politica Di abbattimento del lupo Ci possono essere Mille altre strade Soluzioni Via invece Per preservare questa Questa razza Perché distruggere Per uccidere così Gli animali Per esempio Recinti elettrificati Ci sono tante altre soluzioni Rimborsiamo questi pastori Che invece vorrebbero attaccare E poi adesso Luca Ne parleremo con Andrea Andrea ricercatore Esperto di lupi Esperto di olfatto Quante persone in Italia Sono state uccise dai lupi Negli ultimi cento anni? Penso Quasi nessuna Insomma Ah dici quasi nessuna Io sono proprio zero Vabbè Poi comunque Ne parliamo Io volevo salutare Intanto tutti gli amici Che sono venuti A trovarci con te Perché sono protagonisti Dei viaggi con te Ma in particolare Abbiamo una giornalista americana Che vorrei che presentassi tu Perché scrive il tuo ultimo libro Perché continui a pubblicare Dei libri Meravigliosi Fotografici Così la salutiamo Gina Williams Ecco Lei parla soltanto inglese Ma è venuta dagli Stati Uniti Per te Beh sì Diciamo che è una delle più famose giornaliste Blogger americane Scrive sulle testate più importanti Dal Lands Culture Collaboration Eccetera Ed è venuta a partecipare Proprio ad uno dei miei workshop In Islanda Mi ha seguito Alle isole Lofoten E si è così innamorata Che gli ho detto Bene a questo punto Sarai tu l'autrice Del mio prossimo libro Sulle isole Lofoten Però a questo punto Bisogna chiudere Il famoso cerchio E non puoi mancare Al mondo insieme Con Leciacolò Per raccontare un'altra storia Se è stato troppo carino Voglio salutarti Con questo RVM Dedicato a te Guardate Ah addirittura Dedicato a Luca Alle sue esplorazioni E i suoi viaggi Non sapete Sei un grande Grazie Emozionato Emozionato a te Allora adesso lasciamo Il grande